Dichiarazione? No. Dai, dica da qualcosa. Non dica da avanti un avvocato, non dica da avanti un avvocato. Dica da avanti un avvocato, non dica da avanti un avvocato, non dica da avanti un avvocato. Sono emozionato perché mi ha chiamato avvocato. Silenzio, un'altra, il silenzio è un momento importantissimo. Dalla regia mi comunicano, attenzione, silenzio. Non assurdo, è l'unico che sta parlando.